Grazie Maria. Carola ha iniziato con una domanda se è giustificato oggi l'allevamento con lo scopo di utilizzare le pellicci di animali. La mia risposta è che no, non è giustificato. Per questo diamo il massimo supporto alla proposta dell'Olanda e dell'Austria, da cui si è già associato anche il Belgio, Lussemburgo, Germania, Repubblica Slovacca. Diamo il massimo supporto per trovare gli strumenti legislativi, perché vi sia una posizione comune di tutti gli Stati membri, perché ciò non sia più consentito. Lavoriamo assieme e da parte del nostro Paese ci sarà la massima disponibilità ad arrivare a questo risultato. Grazie.